ciao a tutti ragazzi oggi siamo qui con una nuova bevanda molto famosa qui in australia ovvero l'acqua di cocco questa è 100% naturale anche se andando a guardare gli ingredienti potremmo notare che l'acqua di cocco è al 98 per cento mentre il restante 2 per cento è polvere di fruttosio andiamo adesso a versare come vedete un po trasparente ma non del tutto è un po giallina adesso assaggiamo come raubio sa di cocco in realtà non è molto invitante anche perché sembra acqua sporca come vedete non penso che lo ricomperò perché alla fine non ha un sapore particolarmente buono vi ricordo che potete lasciare un like un commento e anche condividere questo video in descrizione trovate i link a tutti i miei social dove potete seguirmi in particolare vi ricordo facebook e instagram che sono quelli che uso di più